Si chiama Ariel come l'eterio spiritello delle tempeste di Shakespeare ed è una missione dell'Agenzia Spaziale Europea ideata e progettata con l'obiettivo di osservare e caratterizzare le atmosfere degli esopianeti. La sua costruzione è in corso e in questi giorni si sono ritrovati a Bologna da tutto il mondo le ricercatrici e i ricercatori del Consorzio Internazionale che lo sta realizzando. Il Consorzio di Ariel oggi ha più o meno 500 iscritti tra scienziati e ingegneri che provengono da 16 paesi dell'ESA e poi abbiamo un contributo della NASA e un contributo della JAXA. Però diciamo lo strumento di Ariel ha soprattutto un contributo inglese, italiano, francese e polacco e in particolare l'Italia ha un grosso contributo sia perché costruirà il telescopio, ma c'è anche un grande contributo scientifico, in particolare su molti temi come la caratterizzazione stellare, l'attività stellare, la misura delle masse e ci sarà anche un grosso contributo italiano al ground segment. E quando prevedete di lanciarlo? Il telescopio spaziale Ariel verrà lanciato nel 2029, verrà lanciato in L2 che è un punto a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra e da questa posizione osserverà un migliaio di atmosfere esoplanetarie. Ecco a questo proposito quando Ariel arriverà in L2 nel 2029 troverà ad attenderlo tanti altri telescopi spaziali tra i quali soprattutto il James Webb che quanto a studio e rilevazioni di atmosfere esoplanetarie sembra che stia facendo già da adesso un ottimo lavoro. C'è qualcosa di particolare che Ariel sarà in grado di fare più o meglio di James Webb? Sì, beh, Ariel sarà in L2 così come anche James Webb e anche altre missioni spaziali perché ovviamente questo è un punto molto strategico, tra di tutto il punto di vista termico per queste missioni che hanno, che guardano, che fanno misure in inferosso, ma anche proprio anche poi per la visibilità del cielo. James Webb sicuramente è un telescopio fantastico, parliamo di un diametro di 6,5 metri e tra le tante cose che fa e farà ci sono anche gli esopianeti. Si sono già visti i primi dati recenti e assolutamente in dubbio che questi dati saranno estremamente utili per aiutarci a comprendere queste atmosfere. Il problema di James Webb è che tutta la comunità astrofisica lo vuole per ovvie ragioni e quindi da un lato non c'è necessariamente tempo per riuscire a fare un gran numero di atmosfere esopianetari, sicuramente non le centinaia che farà Ariel proprio perché per ragioni di tempo Ariel avrà una missione dedicata quindi dedicherà almeno 4 anni della sua vita e anche di più visto che non c'è motivo per interrompere dopo 4 anni e quindi ovviamente avrà molto tempo a disposizione per guardare in grandi dettagli queste atmosfere. E poi c'è anche molta complementarità in realtà tra James Webb e Ariel. Da un lato James Webb appunto grazie a questo enorme telescopio ha anche rivelatori molto molto sensibili che fanno sì che sarà assolutamente ottimo per guardare ad esempio pianeti molto piccoli, freddi intorno a stelle più fredde del nostro sole, per esempio i pianeti trappist che sono sicuramente molto noti nella comunità scientifica degli esopianeti. Però ovviamente uno non vuole necessariamente usare James Webb per guardare delle sorgenti estremamente brillanti laddove invece dove Ariel avrà proprio il suo fuoco di interesse e quindi secondo me c'è anche molta complementarità. La speranza è che i due lavorino insieme, magari anche solo per un breve periodo di tempo, in particolare se James Webb continuerà a funzionare per una decina d'anni, questo non è impossibile e allora sarà bellissimo perché uno può usare l'uno in supporto dell'altro, essendo così complementari sarebbe assolutamente fantastico. Pensando invece alle diverse frequenze, a diverse lunghezze d'onda alle quali i due telescopi sono sensibili rispetto a James Webb, c'è qualche molecola, penso in particolare a molecole interessanti per lo studio della possibilità di forme di vita che Ariel è in grado di identificare nell'atmosfera di esopianeti rispetto a James Webb? Ma sia James Webb che Ariel avranno comunque sicuramente dei challenge o comunque delle difficoltà a trovare delle molecole che possono essere delle biosignature, questo perché in generale dobbiamo ancora capire tutto su che cosa voglia dire per un pianeta essere abitabile, quindi più che pensare a delle specie molecolari che uno vede e l'altro no, io direi uno dei forse punti importanti di Ariel è il fatto che copri la lunghezza d'onda dal visibile all'inferosso senza interruzioni e quindi potrà fare queste misure simultaneamente, questo è molto importante quando uno vuole concentrarsi appunto sulle atmosfere esoplanetarie e correggere per esempio per il rumore dell'attività stellare, è utilissimo avere queste lunghezze d'onda ricoperte in un'unica osservazione, questo sicuramente non è solo molto efficiente ma sarà anche molto importante per una serie di atmosfere, quindi di nuovo io penso che i due telescopi siano molto importanti e più che entrare in competizione sarà bello invece usarli in sinergia Grazie Grazie